È partito il conto alla rovescia nel senso che da un anno che stiamo lavorando con il consorzio che provvederà all'abbattimento e poi alla realizzazione di questo progetto di social housing, siamo ormai arrivati agli sgoccioli, abbiamo seguito costantemente insieme questa realizzazione che comincerà ovviamente con la bonifica e l'abbattimento di questi famigerati palazzi clerico che ormai da oltre 30 anni creano tante tante difficoltà ai residenti in primis. I tempi sono sicuramente quelli dell'anno, ossia entro l'anno, anche prima ci auguriamo entro ottobre e novembre, si procederà con l'abbattimento e quindi con la realizzazione di tre palazzine per un totale di 74 alloggi di diversa dimensione e a canoni ovviamente calmerati che andranno a coprire quella fascia di cittadini con un reddito che non gli consente di accedere a un bando per case a canone sociale ma neanche ad acquisire o ad avere dei canoni di locazione elevati come quelli che solitamente sono sul territorio. La novità è quella che poi non è una novità perché noi ormai sosteniamo da tempo, data la situazione, anche lì come riqualificazione, l'abbattimento dell'intero ferro di cavallo con la realizzazione parziale, quindi solo in parte, di una palazzina con un sistema di ecosisma bonus e una riqualificazione dell'area, non solo ma anche di tutta l'area, quindi non solo quella che si verrà a creare con l'abbattimento ma anche quella dell'area frontale, nonché quella dei palazzi di Via Lago di Borgiano che saranno anch'essi buttati giù, demoliti.